Oggi, come sempre, la Chiesa ha bisogno di una testimonianza credibile dei laici alla verità salvifica del Vangelo, al suo potere di purificare e trasformare il cuore umano e alla sua fecondità nell'edificare la famiglia umana in unità, giustizia e pace. È la riflessione di Papa Francesco, offerta ai membri dell'apostolato laico coreani incontrati a Cotogne. Il Pontefice ha poi chiarito che portare la consolante presenza del Signore alla gente che vive nelle periferie della nostra società non si può ridurre alla semplice assistenza caritativa, ma deve estendersi anche ad un impegno per la crescita umana. Vi incoraggio, ha insistito, parlando anche dell'importanza della famiglia e della formazione, a moltiplicare i vostri sforzi nell'ambito della promozione umana, così che ogni uomo e ogni donna possa conoscere la gioia che deriva dalla dignità di guadagnare il pane quotidiano. Grazie.